Mi chiamo Olivio, adesso sono qui a spingere, in mezzo alla natura, al mare, questo bel carello della Coppa. Però sono insieme a tanti amici, in mezzo alla natura, seguendo i canali e facendo veramente delle belle passeggiate, conoscendo delle persone simpaticissime, piacevole parlare, passeggiarlo, anche se le giornate sono molto molto calde.